Posso dire di essere entusiasta, che ho onorato di far parte di questo progetto, di essere testimonia, di portare la mia testimonianza nelle scuole, per la vera, per l'Aquila e di Denomo, rispetto a quella che è la mia esperienza di sport. L'entusiasmo dei bambini è sempre straordinario e coinvolgente. Si sono toccati temi importanti, cercando di far emergere quelli che sono gli aspetti positivi di queste esperienze esecutive, impegno, rispetto, coraggio, tutte quelle cose che sono alla base per un futuro migliore e per l'impegno fattivo da parte dei ragazzi, verso tutte quelle che sono, verso tutti quelli che sono gli aspetti, tutte le discipline sportive, quindi sia quelle che vanno per la maggiore ma anche quelle migliore. In questo momento, nel momento della formazione del KPI Handball, sicuramente stiamo disputando il campionato di vertice, siamo già riusciti a portare a casa un importante obiettivo che è quella della campionata italiana e contiamo di riuscire, quantomeno, a dire la nostra fino alla fine in questo campionato. Gli obiettivi sono chiaramente quelli di arrivare il più tanto possibile, la società, la formazione, lo staff tecnico stanno lavorando per questo, tutti stiamo lavorando per questo, quindi speriamo di portare a casa tutti con i possibili da adesso fino alla fine. Si può fare, rifare Studiare, 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 alienarsi, alienarsi, ma non ci sono altre vicende mani. Ascoltare chi è incaricato, insegnarci qualcosa, fidarci, e poi c'è l'olio di bo. Abbiate la pubblicità, riconoscere altri sport, non vi fermate al primo che vi propongo. Vincere una partita, vincere una cosa, vincere un gara, non è altro che il formamento, non è altro che la conferma di avere investenza. In realtà sono semplicemente una persona normale, una persona che è stato, ahimè, anzi per fortuna, e quindi poi ho proseguito il mio percorso di crescita, un bambino con idee confuse, ma con tanta curiosità di vedere, di valutare altri sport, di fare nuove esperienze, di conoscere nuove persone. Ed è questo il motore che vi porta a conoscere nuove situazioni, nuove persone, nuove scuole. Il segreto per il successo o per arrivare a degli obiettivi è sempre lo stesso. Lavoro, 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 impegno, impegno, impegno. Chi vi propone delle scorciaboglie, delle facili alternative, vi sta prendendo un giro. Non ci sono. Quindi il mio augurio è che voi vogliate la voglia della università, di vedere, di imparare, di conoscere nuove cose, nuove scuole. E magari il giorno non è facile, non è facile, non è facile, non è facile, non è facile. E per il quale avrete voglia e la grande voglia, impegnate il giudizio di un'altra cosa. Ok? E per il fatto di un'altra cosa. E per il fatto di un'altra cosa.